Sono una danzatrice, performer e coreografa. Mi occupo del corpo, diciamo, in generale. Faccio parte di una compagnia di danza contemporanea che si chiama Fattoria Vittabini e invece con un gruppo di artiste, principalmente fotografe, ho costruito un collettivo che si chiama Fragile Artist. Credo che solo imparando a stare nella vulnerabilità e imparando a mostrarsi fragili si possa veramente scoprire il proprio essere coraggiosi. Fragile nel senso di non debole o distruttibile, ma vibrante. In qualche modo il poter andare in pezzi, poterli ricostruire questi pezzi. Ho deciso di proporre questo mio monologo in corpo, quindi questo sfogo danzato, in spazi non convenzionali, quali parchi o luoghi abbandonati. E questi momenti non sono finiti. Anche in occasione di questa replica abbiamo fatto delle nuove fotografie, abbiamo indagato un po' il mondo invernale di questo personaggio che in realtà è nato estivo. E abbiamo scoperto nuove insicurezze, nuovi desideri, nuove paure che andranno ad arricchire l'esibizione lì questa sera.